Cambiamo argomento? Sì. Tu che hai ricevuto? Hai ricevuto questo di cui parleremo? Non lo so. Non lo sai? Lui ha vinto un viaggio ad Assisi ma l'ha fatto per lavoro. Il Natale però è appena trascorso e tutti si fanno la domanda, quella che ho fatto a Franco, tu che hai ricevuto? Pensate che la risposta più frequente è un viaggio. Lo conferma un'indagine del centro studi CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in collaborazione con CNA Turismo e Commercio. Con noi è la Presidente del CNA Commercio di Roma, Giovanna Marchese. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli aspettatori. Questa dei viaggi sotto l'albero di Natale, quali sono quelli che si regalano di più? Un pacchetto nuovo da trovare sotto l'albero. Indubbiamente l'incremento è stato importante, un 13,5% è un dato da rilevare. In viaggio all'interno di questo incremento è interessante andare a vedere proprio qual è stata la scelta mediamente in Italia, perché il dato è nazionale. L'incremento è stato proprio per il viaggio, forse anche più vicino a dove vivi, perché la media che abbiamo rilevato di spesa va dalle 150 alle 300 euro. Quindi il fine settimana. Il fine settimana. Quindi viaggi di breve durata, però che possono essere momenti importanti per ricrearsi e ricreare indotto non solo turistico, ma anche pilla legato al commercio in tutti questi luoghi dove la maggiore frequentazione, fra l'altro, sarà possibile farla non i pacchetti vengono venduti, non perché tu li debba consumare assolutamente entro il Natale, ma hai un tempo più lungo per poterne approfittare. Ecco, questo cofanetto, questi cofanetti che si regalano, lei l'ha detto in breve, ma che tipo di catena virtuosa mettono in moto? Perché lì dentro c'è un mondo, dall'albergo al vitto, appunto i piccoli commercianti, ai trasporti. L'accoglienza in generale. Ecco perché noi pensiamo di dover, come mondo del commercio, essere pronti ad affrontare questa nuova e importante richiesta del mercato e quindi delle abitudini un pochino che ritornano ad essere quelle di un tempo. È importante capire che tutta una serie di servizi collegati a questa accoglienza. Noi non possiamo pensare di poter svolgere il ruolo turistico che abbiamo come città eterna nel mondo e non solo nel mondo, soprattutto in Italia, se non abbiamo poi l'accoglienza giusta, perché questi turisti una volta venuti da noi possano sentirsi veramente all'interno di un sistema che non solo non crea delle difficoltà, ma anzi li aiuta a conoscere la città, a poter approfittare di tutte le opportunità che la città offre. Come è stato questo 2018? Per il mondo del commercio a cui io ovviamente faccio riferimento, devo dire la verità, non è stato un 2018 molto entusiasmante, perché le città, forse alcune città, non erano preparate anche a questo incremento di ritorno per le vie cittadine. Roma è la città più desiderata nel panorama internazionale come viaggio e come meta preferita e sicuramente Roma quest'anno non li ha accolti al meglio. Abbiamo avuto tanti piccoli intoppi che non ci hanno aiutato, il fatto che per esempio le manifestazioni durante il periodo natalizio non siano state bloccate, il fatto che purtroppo la città appare una città insicura, sporca e questo non aiuta neanche quel senso di affezione e di piacevolezza che il cliente, l'utente della strada deve avere nei confronti poi del commercio cittadino. Dobbiamente. Grazie Giovanna Marchese per essere presente al Cine.